Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è il risultato del video contest di Uncharted L'eredità perduta Come vi avevo detto non sarebbe andato tanto a lungo Vi faccio vedere l'ora e il giorno insomma avete visto la data E dicevo non sarebbe andato tanto a lungo Anche perché i commenti erano pochissimi Penso che non molti di voi avranno PS Vita E quindi andiamo a sorteggiare questo vincitore Ragazzi i ricordi requisiti erano essere iscritti al canale E avere messo mi piace e tutto il canale pubblico Qualora venisse a mancare uno solo di questi requisiti Il sorteggio è annullato nel senso che comunque quello che è uscito non vincerà Se non avrà il canale pubblico oppure le iscrizioni Oppure un commento che non è inerente al partecipo insomma Perché per vincere bisognava lasciare il partecipo Un attimo per chiudo l'applicazione che non è per cazzo E bisognava lasciare un partecipo ancora Ok termina E un like ed essere iscritti al canale Era tutto abbastanza semplice Quindi andiamo a vedere ragazzi Andiamo a vedere come siamo messi Allora qui c'era il like Vediamo C'è anche l'iscrizione Adesso andiamo a verificare il commento E vediamo il commento che commento era ragazzi Vi faccio ancora vedere l'orario Vediamo TNT qui TNT 10 come ragazzarola si chiama Nulla ragazzi Quindi continuiamo ancora Anzi gamer Vediamo ancora se riusciamo a trovare Questo Fantomatico vincitore di questo contest Ragazzi Andiamo un attimino Un video Andiamo ancora avanti Buchi buchi ragazzi Vediamo Buchi buchi pieni Vediamo se È lui il vincitore Quelli che sto scartando ragazzi Sono tutte persone che non hanno I requisiti Buchi 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 Mi ha scritto partecipo Quindi andiamo a vedere Vediamo Vediamo le iscrizioni Vediamo i video piaciuti Buchi 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 Ragazzuoli vediamo vediamo Ragazzi io qui di recente Non vedo nessun Nessun Diciamo like Lasciato al video che ho fatto Al video contest Ho visto altri like Lasciati ai miei video Io ringrazio Buchi buchi Ovviamente Buchi buchi mi sembra che partecipa A tutti i video contest Comunque va bene Non è un problema Il canale sta lì anche per i contest Però mi dispiace Però mi dispiace per Buchi buchi Ma non Non ha messo like A questo video Quindi andiamo a vedere Albix Vediamo Albix Verifichiamo un attimino Albix Se ha tutti i requisiti Almeno lui Magari speriamo Anche perché mi sono stufato Che sta a cercare Iscrizioni Vediamo subito Le iscrizioni Allora L'iscrizione ragazzi Eccola qui L'avete vista C'è Vediamo se Il mi piace Al video C'è Speriamo di sì Ragazzi Wow Vedo già Mi piace Un ultimo mio video Quindi Aspettiamo un attimino Che carica Ragazzi Cazzata Ha caricato la playlist Non doveva caricare La playlist La doveva caricare Solo i video Aspettiamo Ritorniamo sul canale E vediamo Vedo parecchi video Condivisi Da parte di Eccolo qui ragazzi Contest Uncharted Cazzi e Mazzi Quindi Allora Albiz Ha vinto Questi codici Cusher Io spero che Albiz Abbia capito Che stiano Per PS Vita Perché ho visto Nei commenti Che alcuni Non avevano capito Che era per PS Vita Detto questo Ragazzi Vi lascio Un saluto Vi aspetto Nel prossimo contest Partecipate Se ci saranno Ovviamente Iscrivetevi al canale Continuate a seguirmi E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti